Come avete smaltito la sconfitta di domenica con? Sicuramente è stata una nottata amara quella che abbiamo passato, però adesso ci siamo liberati mentalmente e pensiamo subito a ribaltare il risultato qua in casa. Adesso non c'è veramente più nulla da perdere, bisogna vincere con almeno due gol di scarto? Sì, non abbiamo più nulla da perdere, quindi proveremo da subito ad andare a prenderci, a fare questi due gol che ci servono almeno per portare in parità il risultato e poi vedremo se riusciamo nei tempi regolamentari o addirittura nei supplementari a portare a casa questo play-off. Quando potrà influire giocare qui invece a Senigallia? Diciamo che qua è il nostro stadio, il campo lo conosciamo da sempre e quindi potremmo essere avvantaggiati sotto questo punto di vista. Poi i tifosi comunque da quello che si è visto verranno numerosi e quindi questo ci porterà molta più fiducia. Per quei pochi che ancora non avessero comprato il biglietto, insomma come li convincevi a venire a fare per voi? Dovete venire allo stadio perché dobbiamo vincere e dobbiamo festeggiare tutti insieme.